È a Borgo Petilia, piccola frazione a quasi 7 km da Caltanissetta, che una serie di iniziative sono state pensate realizzate all'insegna della tradizione della solidarietà ed hanno allietato la comunità in vista del Natale. Proprio nel piccolo borgo rurale, dove risiedono diverse famiglie, il Comitato dei Festeggiamenti Sant'Isidoro, guidato dal presidente Rosario Gentile e dal vicepresidente Massimo Di Cara, ha organizzato l'arrivo di Babbo Natale con caramelle, zucchero filato e regali per i bambini, accompagnati dalle musiche tradizionali degli zampognari. Ma il pensiero del Comitato è andato anche alle famiglie più bisognose di sostegno da parte della comunità, per le quali sono stati acquistati sia prodotti di prima necessità che panettoni, che saranno consegnati alla parrocchia di Borgo Petilia. Sarà poi il parroco, padre Salvatore Lovetere, a distribuirli alle famiglie.